Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna, da Andrea Raggini. È Ravenna la prima città dell'Emilia Romagna a godere del paesaggio imbiancato. Nella serata di ieri la neve ha fatto la sua comparsa su Ferrarese orientale fino alla città di Ravenna imbiancando il paesaggio. Guardate come si presentava questa mattina la spiaggia dei Diti Ferraresi. La situazione poi oggi ha visto il ritorno del sole ma nelle prossime ore tra la sera e la notte la luminosità tornerà ad aumentare a causa di un peggioramento che nella giornata di domani riporterà qualche precipitazione. Infatti la mattinata vedrà cieli coperti con qualche rovescio sulla Romagna e sul Bolognese orientale nevoso fino in pianura soprattutto tra Bolognese orientale e Ravennate. La neve dovrebbe risultare sopra i 100-300 metri invece tra Cesenate e Riminese. Qualche fiocco di neve potrebbe raggiungere anche l'Emilia centrale ma poi i fenomeni cesseranno già dalla tarda mattinata e poi migliorerà anche sulla Romagna entro la sera. Le schiarite infatti tra la sera e la notte arriveranno su tutta la nostra regione. Qualche fiocco di neve a fine evento potrebbe raggiungere le aree occidentali del Riminese. Per quanto riguarda la ventilazione sarà in aumento di vora sul mare, il mare si presenterà poco mosso, le temperature minime saranno comprese tra meno 4 e più 3 gradi i valori massimi tra più 0 e più 6 gradi. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini.